Questa risoluzione ha una richiesta molto semplice, e cioè che i parcheggi siano gratuiti per gli operatori sanitari e per tutti gli utenti. La richiesta è semplice ma nasce da un disagio complicato e grande. I parcheggi in Emilia-Romagna per quanto riguarda le strutture sanitarie sono insufficienti, la maggior parte sono a pagamento, i posteggi gratuiti spesso sono ad uso solo dei dipendenti della struttura stessa, ma anche in quel caso molto spesso sono insufficienti. Questo naturalmente crea disagio ai cittadini che devono accedere alla struttura e che già, visto che accedono a una struttura sanitaria, sicuramente non vanno né a divertirsi né a fare shopping né a passeggiare, quindi già hanno una necessità. In più vengono anche gravati da un problema di ricerca di parcheggio. L'insufficienza di parcheggio molto spesso comporta anche ad avere attorno dei parcheggiatori abusivi, quindi un ulteriore disagio. Crea disagio agli abitanti della zona. I cittadini sono costretti a sostenere un costo per poter risolvere una loro necessità. Insomma, sicuramente non è la situazione che può aiutare chi in quel momento si rivolge a una struttura pubblica per uno stato di necessità e spesso frequentemente di sofferenza, perché poi non si rega solo per magari controlli di routine, eccetera, ma nella maggior parte dei casi si accede per necessità. Quindi la richiesta è molto semplice. Secondo noi è diritto di tutti i cittadini e anche dei lavoratori che lavorano all'interno delle strutture sanitarie che queste siano gratuite. Grazie.